Ciao e benvenuti in questo nuovo tutorial, oggi ti voglio mostrare in che maniera attraverso il nostro plugin YTH, WooCommerce e Subinscription sia possibile creare delle box in abbonamento. Prima di guardare il tutorial ti invito a guardare il link in descrizione perché trovi il link al plugin e il link alla demo dove lo puoi provare anche nella sua versione admin. Ma adesso andiamo a vedere in che maniera creare le box attraverso il nostro plugin. Andiamo! Ok, in questa demo sono presenti diversi prodotti in sottoscrizione. Il primo prodotto però è quello che ci interessa, ovvero le box in sottoscrizione all'interno di WooCommerce. Clicchiamo qui e andiamo a vedere di che si tratta. Come vedi è un prodotto normale di WooCommerce. La sua particolarità è che il momento in cui vai a creare la tua box parte una procedura guidata. Quindi adesso clicco su crea la tua box e come vedi si apre questa procedura guidata dove ho la possibilità di poter selezionare dei prodotti e la posso fare in più step. Infatti qua vediamo che siamo allo step 1 dove stiamo scegliendo delle fette di torta. Quindi io posso aggiungere dei prodotti a questa box. Quindi per esempio se clicco qui avrò aggiunto questo prodotto. Se clicco qui avrò aggiunto anche questo prodotto e come vedi qua sotto si popola il mini cart con tutti i prodotti che sto aggiungendo. Posso aprire il mini cart semplicemente cliccandoci e posso anche cambiare la quantità dei prodotti direttamente da qui. Chiudiamo il mini cart. Se volessi vedere la descrizione di un prodotto mi basterà cliccare sulla foto. Si aprirà una sidebar sulla destra con la foto del prodotto più grande, la descrizione, il prezzo e tutto quello che mi occorre sapere. Posso chiudere questa sidebar e continuare all'interno di questo step a scegliere dei prodotti. Per esempio voglio aggiungere anche questo ma di due quantità. Vado a guardare di un mini cart. L'ha aggiunto. Ok. Possiamo passare allo step successivo. Nello step successivo che è lo step 2 abbiamo ingelati posso scegliere quelli che voglio all'interno della box o andare a controllare la descrizione. Quindi aggiungo questo, questo, il mini cart si aggiorna. Prima di continuare ti invito a mettere un mi piace all'interno di questo video, di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella. In questo modo ti raggiungeremo facilmente ogni qualvolta andremo a creare e inserire un nuovo tutorial all'interno di questa piattaforma. Ma adesso continuiamo con il tutorial. Andiamo. E come vedi abbiamo nel mini cart lo step 1 e lo step 2. E posso anche andare a modificare gli step precedenti. Per esempio se in questo momento vorresti tornare sullo step 1 perché voglio aggiungere e eliminare un prodotto mi basterà semplicemente cliccare su modifica, torno sullo step 1 e posso fare tutte le modifiche che voglio. Quindi posso eliminare magari un prodotto, aggiungerne un altro, leggere le descrizioni, eccetera. Quindi vado di nuovo al successivo e poi ancora clicco su successivo e in questo caso vado al carrello dove posso vedere il riepilogo dei prodotti che ho aggiunto all'interno della mia box e poi qua il dettaglio dell'ordine. Con i sei prodotti, il prezzo, la spedizione, eccetera, eccetera. Quindi se vado al checkout potrò acquistare questo prodotto in sottoscrizione esattamente per come l'ho creato io. Ma adesso andiamo a vedere in che maniera si configurano le box all'interno del nostro plug-in e poi andiamo a vedere in che maniera si crea il prodotto. Andiamo sulla nostra bacheca. All'interno di subscription ci sono, come già saprai, dei moduli. Le box non sono altro che un modulo del nostro plug-in. Quindi appena entreremo sui moduli del nostro plug-in troveremo quello delle box in abbonamento. Infatti se disattivo la box da qui scompare la voce di menu, se lo riattivo comparirà di nuovo la voce di menu delle box. A questo punto mi basterà semplicemente andare su box in abbonamento e da qui le posso configurare. Innanzitutto abbiamo le impostazioni delle box in abbonamento. Possiamo mostrare il logo del sito e lo possiamo caricare da un file oppure inserire il logo tramite una URL. Possiamo inserire il testo del pulsante aggiunge al carrello. Come hai visto all'inizio c'è scritto crea la tua box, che è quello che abbiamo inserito qua. E decidere quali colori utilizzare. Possiamo decidere se vogliamo la paginazione o meno, se la vogliamo abilitare e di quanti prodotti mostrare per ogni pagina. E poi possiamo decidere se permettere ai clienti di modificare il contenuto della box direttamente dal loro account. Quindi lo possiamo abilitare o meno. E quindi salvare le opzioni. E queste sono le opzioni generali per quanto riguarda le nostre box. Ma andiamo a vedere in che maniera abbiamo configurato il prodotto che abbiamo visto all'inizio del tutorial. Quindi torniamo di nuovo sulla nostra home page. Entriamo dentro il prodotto e andiamo su modifica prodotto. Per configurare una box in abbonamento ci basterà all'interno di dati prodotto selezionare box in abbonamento. Infatti a differenza del prodotto in abbonamento dove ci basterà semplicemente cliccare qua, per creare la box troveremo una voce a parte. Box in abbonamento. Una volta cliccato qui, possiamo andarla a configurare all'interno del prodotto. Quindi abbiamo le impostazioni e quindi le impostazioni di abbonamento. Tipologia di prezzo della box. Possiamo decidere se è la somma dei prezzi dei prodotti oppure un prezzo fisso. Possiamo offrire uno sconto, che ovviamente lo possiamo fare sia fisso che in percentuale, e decidere ogni quanto gli utenti pagheranno questa box e quindi ogni quanto la riceveranno. In questo caso è una settimana, ma potrebbe essere un giorno, un mese, anno, eccetera, secondo del prodotto che stai configurando. Quindi l'abbonamento quando termina mai oppure imposta una data di fine. Puoi chiedere una quota di iscrizione alla box e puoi applicare le restrizioni sull'abbonamento. Quindi puoi limitare l'utente consentendo solo un abbonamento attivo oppure limitare l'utente consentendo solo un abbonamento in qualsiasi stato. Non importa se è attivo o no, se ce l'ha l'abbonamento non potrà farne altri. In questo caso, leviamo la limitazione. Puoi sovrascrivere le impostazioni globali per le opzioni di pausa e quindi permetti agli utenti di mettere in pausa questo abbonamento. Mai, sì, l'utente lo può mettere in pausa anche senza alcun limite, sì, l'utente può mettere in pausa ma con delle limitazioni. Sovrascrivi le impostazioni globali per l'annullamento e queste sono tutte le configurazioni di subscription. Le limitazioni sull'annullamento, quindi permetti agli utenti di annullare questo abbonamento e deciderai giorni dopo la creazione, giorni prima della data di rinnovo, eccetera. Puoi inviare una mail relativa al contenuto della box successiva, quindi prima di ricevere una nuova box riceveranno una mail e puoi consentire la modifica della box fino a e i giorni prima della data del rinnovo e poi ci sono le impostazioni di consegna. Puoi sovrascrivere anche le impostazioni di consegna e quindi puoi spedire il prodotto in abbonamento a settimana, quando vuoi, in questo caso su questo determinato prodotto. Puoi sincronizzare le spedizioni e da qui puoi scegliere il giorno in cui sincronizzare le spedizioni. E questo vale per le impostazioni generali all'interno di questo prodotto. Il momento in cui vogliamo creare proprio la box sarà molto semplice, passeremo a questo menu, a questa voce di menu box e da qui possiamo andare a creare i nostri step. Quindi in questo caso nel nostro tutorial abbiamo visto due step, il primo e il secondo. Da qui posso aggiungere anche il terzo e il quarto, tutti quelli che io voglio, infatti nel momento in cui clicco su aggiungi step qui compare un nuovo step che in questo momento elimino. Configurare gli step è uguale in tutti i casi, quindi nel momento in cui vado su step 1 trovo la matitina e dal successivo in poi troverò anche l'icona per eliminarlo. Quindi matitina e da qui inizia la configurazione del primo step, quindi in questo step mostra determinate categorie oppure determinati prodotti. Qui abbiamo scelto le fette di torta ma potrei scegliere anche determinati prodotti e quindi andare a digitare i prodotti che io voglio inserire allo step 1 tutti qua. Quindi prodotto per prodotto li posso inserire, ma ritorniamo alla configurazione iniziale dove ci sono determinate categorie e in questo caso ci sono le fette di torta. Possiamo impostare le regole per determinare il numero minimo e massimo dei prodotti selezionati, quindi in questo caso l'utente può selezionare minimo due prodotti per box e massimo cinque prodotti per box e massimo due unità dello stesso prodotto. Possiamo dare il nome al nostro step e poi il testo dello step. La configurazione dello step successivo è uguale, è la medesima, ci sono le stesse impostazioni e posso aggiungere tutti quelli che voglio come abbiamo visto. Poi andiamo all'impostazione della box e imposta valore minimo e massimo per la box e quindi il valore minimo della box deve essere 25, il valore massimo può essere 100 oppure lasciamo 0 e 0 per non dare nessun limite. Il risultato come abbiamo visto all'inizio del tutorial è fantastico perché sarà questo dove crei la box e l'utente finale potrà creare la sua box personalizzata in modo autonomo. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao! Grazie a tutti!